Buongiorno e bentrovati con questa edizione di Mattino 6. Buongiorno e buona festa della liberazione, il 73esimo anniversario della festa del 25 aprile ed è una ricorrenza a quest'oggi ancora più speciale per noi abruzzesi visto che il Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà proprio nella nostra regione per la cerimonia del 73esimo anniversario. Una giornata che prenderà il via per il Capo dello Stato tra poco perché alle 10 sarà a Tarantapeligna in visita al Sacrario e poi in tarda mattinata al Teatro di Casoli, sempre in provincia di Chieti proprio per tutte le cerimonie per onorare questa festa. Una ricorrenza è un evento che la nostra emittente seguirà nel corso della giornata, dunque il miglior modo per onorare, per omaggiare questa festa del 25 aprile. Noi ovviamente apriamo questa giornata con la nostra rassegna stampa vedendo le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali, poi sviluppando anche la rassegna con le pagine interne locali e anche ripetendo alcuni dei servizi del Tg6. Partiamo con il centro, con le prime pagine delle quattro edizioni del centro. Ecco qui siamo all'edizione di Pescara, botte agli alunni, maestra sotto accusa, Pescara, il PM, umiliazioni e insulti ai bimbi di Quinta Elementare. Inchiesta chiusa e poi la fotonotizia al centro, il comune assume 30 vigili urbani per l'estate, posti di lavoro dal 15 giugno. Poi come detto vediamo questi richiami, l'Abruzzo dà il benvenuto al presidente Mattarella, vi ho ricordato le due tappe principali della mattinata, il sacrario di Tarantapeligna e poi la sua presenza al teatro di Casoli a partire dalle 11.15, Casoli che è il comune che ha dato i Natali alla Brigata Maiella. Poi ancora ultimora Napolitano operato al cuore nella notte, l'intervento è perfettamente riuscito per il presidente merito della Repubblica Giorgio Napolitano. Poi ancora leggiamo Sushi, per la cronaca Sushi, chiusi due ristoranti, operazione dei Nassi in tutto l'Abruzzo, stop ai locali nella Marsica e nel Chietino. Poi ancora sede unica regionale, la centrale del 118 andrà all'aeroporto, non all'apertura di oggi i sindacati sfidano i centri commerciali. Poi di spalla vediamo altri richiami a Pescara, la RAI al posto della caserma dei pompieri. Poi ancora a Farindola, a Rigopiano Sentinelle contro i Curiosi e a Montesilvano lo sfogo di Manola Musa. Maragno, scelte non condivisibili, Musa che è stata estromessa dalla giunta comunale nelle ultime ore. Poi in basso, giunta comunale di Montesilvano chiaramente, in basso chiudiamo, ecco la legge salva privacy, tra un mese sarà molto più difficile violare i dati personali. E poi la Champions, la semifinale d'andata di ieri sera, Liverpool vince 5 a 2, la Roma spera nel ritorno per il tecnico abruzzese della Roma, Eusebio Di Francesco. La necessità di un'altra super rimonta dopo quella contro il Barcellona. L'edizione terramana del centro, il titolo d'apertura, il PD chiama al voto 700 iscritti terramo verso le comunali. Sabato la scelta tra Dalberto e Cavallari, la Lega torna su Morra. E poi la fotonotizia al centro, addio annunziata Scipione, pittrice Naif della felicità, l'artista contadina di Tossicia. E poi a Montorio, fatti esplodere 600 metri cubi di rocce instabili, l'intervento sempre lungo la strada provinciale 42. Poi in Val Vibrata, bed and breakfast, controlli sulle strutture. A Roseto, Movida molesta, giro di vite del comune. Adesso vediamo l'edizione di Chieti del centro. Gli fratturano un braccio nella rapina. A Tessa, raid di tre banditi in un'agenzia di pratiche auto. Il ferito è stato un inferno. E poi al centro, ecco la fotonotizia, cerimonia all'Acia Chieti, premiati gli eroi della strada. In prima linea per gli altri. Di spalla, Chieti, solidale, senza stipendi, parte la protesta. Poi sempre a Chieti, il TAR revoca l'appalto per l'ospedale. A San Vito, chiuso il night abusivo, 11 ragazze in nero. E quindi l'edizione aquilana del centro. Il titolo d'apertura, case vuote ma si pagano Tari ed Imu. L'Aquila, tre palazzi ricostruiti, aspettano da un anno e mezzo l'accatastamento. E poi la fotonotizia. L'Aquila, il progetto del Cotugno, viaggio antimafia, studenti nei luoghi simbolo. Di spalla, sempre all'Aquila, per la cronaca travolta, mentre attraversa 18enne ferita. E poi sempre all'Aquila, il giallo Diezzi, lo scomparso, cercato con il drone. Ad Avezzano, De Angelis trema, ora la crisi si fa profonda. E vediamo la prima pagina del messaggero Abruzzo. Il titolo d'apertura, l'omaggio agli eroi abruzzesi. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, oggi a Casoli, per la cerimonia principale del 25 aprile, dedicata alla celebre formazione partigiana. Teramo ricorda la battaglia di Bosco Martese. Poi sotto la testata, sempre a Teramo, morta annunzata Scipione, pittrice Naif, nel segno di Ligabue Giulianova. Cara Ester, il ricordo della dottoressa uccisa un anno fa. Ricorderete l'omicidio della dottoressa nel parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero. E poi per il calcio di Serie B, Pettinari, io il bomber che salverà il Pescara. L'attaccante affronterà sabato prossimo la sua ex, la Ternana, che lo rivoleva. La vittoria con lo Spezzi è stata decisiva, dice. Il rigore è sbagliato, il momento no. E poi vediamo sempre di spalla in un articolo firmato dall'ex presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, Nicola Mattoscio, la Brigata Maiella nel cuore dei presidenti. Poi in taglio medio abbiamo la fotonotizia, cucine da incubo, l'altra faccia del sushi, operazione del NAS nei ristoranti etnici. Arancia meccanica da tessa, uomo pestato per rapina, la vittima in ospedale con fratture ferite. I tre banditi indossavano maschere di carnevale. All'Aquila invece la ricostruzione difficile, 700 aggregati fantasma. E poi in basso per quanto riguarda la situazione politica in Consiglio Comunale ad Avezzano, Avezzano De Angelis, deserto, il primo consiglio. Andiamo a chiudere questa fase con la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. L'apertura terremoto all'ufficio ricostruzione. Il direttore Marcello Dalberto ha accettato l'incarico a Lanciano, riaccendendo le voci sull'addio. Sotto la testata si è spento l'onorevole Tommaso Sorgi, lutto in politica e lutto anche nel mondo dell'arte, come abbiamo già visto, addio alla pittrice Naif, annunziata Scipione. Al centro l'augurio del quotidiano della città di un buon 25 aprile. La provincia Medaglia d'Oro festeggia con il tricolore. E poi di spalla sempre la parte molto ampia dedicata alle imminenti comunali a Teramo. La Lega pronta a accedere alla logica di coalizione. Qui vedete l'ex assessore regionale Gian Donato Morra in corsa per il posto principale a Palazzo di Citra. Poi in basso, sul fronte centro-sinistra, chi non rispetta le consultazioni sul candidato è fuori dal PD. Torniamo alla cronaca, sushi e kebab nel mirino del NAS, controlli a tappeto nei ristoranti etnici, sequestri e chiusure. Poi in fondo il calcio di Serie C, Teramo, domenica pomeriggio esodo a Fano per la gara dell'anno. E ora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Più tardi torneremo ai locali. Siamo sul Corriere della Sera. PD, Movimento 5 Stelle, spiragli e tensioni. Di Maio, addio Lega, Martina, noi disponibili, ma i renziani insorgono. Le consultazioni di Fico sull'ipotesi di dialogo. Salvini, non si rispetta il voto degli italiani. E poi sotto la testata per lo Sport in Champions da 5-0 e 5-2, Salah esalta il Liverpool, ma la Roma spera ancora. E poi scendendo, intanto troviamo anche qui questo richiamo ricoverato napolitano operato d'urgenza al cuore. E poi la fotonotizia, il delitto di Lidia Macchi, condanna dopo 31 anni, uccisa in un bosco nel 1987, Ergastolo all'ex compagno di liceo. E poi di Spalla, Bolorè, fermato per corruzione e tangenti in Africa. Il gruppo replica totale trasparenza. Andiamo ora a vedere la prima pagina di Repubblica. Ancora la politica in primo piano. Valutare l'offerta del Movimento 5 Stelle, militanti PD e Grillini in rivolta deciderà la direzione Dem. Di Maio chiuso con Salvini, accordo con la sinistra o si torna al voto. E poi paura per Napolitano, l'ex presidente operato d'urgenza al cuore. La fotonotizia, l'ultimo bambino di Pompei scoperto grazie allo scavo i-tech. E poi ancora in basso, asse Trump-Macron sull'Iran. Serve nuovo patto nucleare, Donald Teheran, non ci sfidi. E poi in basso, corruzione, fermato Bolorè, pagate tangenti in Africa. Marina Berlusconi e Attila. La prima pagina della stampa, l'apertura alla politica. Renzi blocca la trattativa PD Movimento 5 Stelle. I falchi Dem chiedono un posto nel esecutivo per lui. Di Maio con Salvini o chiuso. Martina apre al confronto, ma l'ex segretario lo gela. Sbaglia la carta di riserva del Colle, premier politico, ministri tecnici. Poi la fotonotizia, un patto contro i missili dell'Iran. La proposta di Macron a Trump per non rinunciare all'accordo sul nucleare. Di spalla, tangenti e politica. Uno scandalo africano mette nei guai Bolorè, fermato a Parigi con l'accusa di corruzione. E andiamo ora con il sole 24 ore che riprende proprio da questa notizia. E da l'apertura, corruzione, fermato a Bolorè. La notizia durante l'assemblea Tim. I riflessi sulla filiera Mediobanca. La giustizia francese indaga su possibili illeciti del gruppo per ottenere concessioni portuali in Togo e Guinea. Di spalla, decreto pronto all'Italia. Il governo punta sul pieno di Lufthansa per convincere l'Unione Europea. E domani la proroga dei commissari. In taglio medio, a vuoto, il Blitz 5 Stelle per chiudere l'Ilva. Linea comune con la Lega sull'energia. Alto là al DL rinnovabili. E dubbi sull'efficienza. Il Parlamento Europeo non passa la petizione per lo stop e la riconversione immediata degli impianti di Taranto. E ora la prima pagina del fatto quotidiano. Fico ci riprova. Ora 5 Stelle e PD si parlano. Di Maio o così o si vuota. Chiusa la porta con la Lega di Salvini. Il reggente Dem. Nonostante le differenze discutiamo di temi. Martina pronto al dialogo. I renziani insistono con il boicottaggio. Poi in taglio medio Berlusconi si libera di Bollorè ma la Guardia di Finanza chiede 500 milioni a Mediolanum. Fermato in Francia il finanziere che voleva scalare Mediaset. E poi lo scontro diplomatico. Alfie respira per 11 ore da solo e può tornare a casa ma in Inghilterra. Avanti con il manifesto che apre così sempre con la politica e parla di forno a microonde. Parafrasando sempre le espressioni di Di Maio. Se non c'è accordo meglio votare. Di Maio stringe sul PD dopo la chiusura del forno leghista. I 5 Stelle aspettano la decisione del Nazareno che parla di novità e prepara la direzione sull'orro della spaccatura. I tempi si allungano. Domani Fico riferisce a Mattarella. E poi sotto la testata. E il 25 aprile a Roma resta diviso. Avanti con il messaggero. Ecco l'apertura. Il dialogo spacca PD e Movimento 5 Stelle. Spirali dopo le consultazioni di Fico. Di Maio apre. Con la Lega abbiamo chiuso. Dem divisi. Base 5 Stelle in subuglio. Il colle concede tempo. Rischio urne a settembre. Poi sotto la testata. Summit con la Federcalcio. Ancelotti verso il Sia. La Nazionale per lui 5 milioni e Pirlo nello staff. E poi ancora il caso Facebook dall'odio 2.0 a sesso e nudità. Nuovo decalogo sui divieti social. E poi alla Casa Bianca. Trump-Macron accordo sull'Iran ma è sfida tra le first lady. E poi la foto notizia. Roma un duro K.O. A Liverpool serve un'altra super rimonta. Incubo Salah in semifinale 5 a 2. Poi di spalla Scioperi arriva la stretta. Dimezzati per i trasporti. Il garante Santoro Passarelli. Raddoppiati i tempi di tregua. Il tempo. Ecco il titolo d'apertura. Quel piccolo diavolo di Silvio. Adorava Satana. Ad Arcore. L'hanno accusato di tutto. Corruzione, mafia, pedofilia e droga. Berlusconi mancava questa follia. Bunga bunga per il demonio. Poi ancora. Gigino la frottola. Molla la lega. Di Maio colpidì. Così Salvini ci guadagna. Quindi per lo sport. C'è al centro la foto. Zuppa inglese. Titola il tempo. Liverpool e Roma 5 a 2. Ma come col Barsa. Non è ancora chiusa. La prima pagina di Libero. Liberateci dalla liberazione. Non è una festa. Ma una liturgia bolsa. La gente ormai non sa più il motivo. Per cui si santifica il 25 aprile. Le divisioni storiche sono superate. Inutili. La resistenza. Alla SMI contro lo squadrismo. Dell'ignoranza. Di Matrice Grillina. Per cui tutto è da buttare. Per i giudici violenti antifascisti. Che hanno picchiato i poliziotti. Sono fascisti. E poi ancora. In basso. Ergastolo. A Stefano Binda. Per la morte di Lidia Macchi. Nell'87. La giustizia rapida. Sentenza. Dopo 31 anni. E siamo alla verità. Nasce la tresca. Fra il PD e i 5 Stelle. La paura del voto. Il profumo di poltrone scongela i dem. Trattiamo. Subito. Di Maio accetta. Con Salvini. O chiuso. Ora intesa sul programma. Che nel frattempo è diventato. Renziano. Si va verso un governo. Che tradisce gli elettori. E taglia fuori. Il nord. E poi sotto la testata. Alfie. Il piccolo che non vuole morire. Ha dato una lezione a giudici e medici. Staccato dal respiratore. E sopravvissuto. E poi in basso. Fermato. Bollorè. La Berlusconi. E come Attila. E ora. L'avvenire. Che apre in maniera diversa. Rispetto a praticamente tutti gli altri quotidiani. Alfi. Respiro di vita. Il bambino malato resiste senza ventilazione. Il giudice potrà essere dimesso. No. Dell'ospedale. Dopo una nottata sul filo dell'esistenza. Una nuova udienza. Riapre le speranze. La scrittrice Mary Kenny. E anche un conflitto. Di classe. E chiudiamo con il mattino. Movimento 5 Stelle PD. Via al dialogo tra i veti. Martina apre a Fico. Renziani sulle barricate. Di Maio. Chiude con la Lega. Base divisa. Partito l'ultimo giro di consultazioni. Vertici 5 Stelle. Contro l'ipotesi del presidente della Camera. Palazzo Chigi. Possiamo lasciare i quotidiani nazionali. Torniamo a quelli locali. Siamo a pagina 2. Sul centro. La protezione dei dati personali. Questo è l'argomento. Come leggiamo. Tra un mese. La legge che salva la privacy. È vietato alle imprese conservare per sempre le informazioni. O cederle senza consenso. Sanzioni record fino a 20 milioni. E qui troviamo appunto quelle che sono le novità principali. che in questa tabella sono sintetizzate in 5 punti. Poi ancora in basso. Hacker entra nel sito della regione al posto della homepage. Compaiono all'improvviso frasi e immagini inquietanti. Pagina 3. Sindacati contro l'apertura di oggi e del 1 maggio. Liberazione Saracineschi alzate in molti punti della grande distribuzione. Globo, Iper Pescara e Città Sant'Angelo Village in attività. Chiuso Iper Cop. In questo caso c'è un'altra tabella in alto che nei vari punti vendita, nei vari centri commerciali di grande distribuzione in Abruzzo da orari e c'è anche il verde che indica che quel centro commerciale è aperto oppure se è chiuso c'è il rosso e poi in caso di apertura vengono elencati anche gli orari e appunto sindacati che sono sul piede di guerra contro l'apertura del 25 aprile del 1 maggio. In basso ambiente industria nasce SIDSI, cinque progetti all'insegna di salute, sostenibilità e sicurezza. Avanti ancora siamo a pagina 12, centrale regionale del 118 all'aeroporto. Scelta una palazzina di 700 metri quadrati per le postazioni. I manager di Pescara e Chietti firmano l'accordo con Saga. L'assessore Paolucci compie un altro passo verso l'ospedale condiviso tra i due capoluoghi. Resta da stabilire la spesa d'affitto e chi comanderà tutto. Poi in basso il fondatore di CCD e UDC. Addio alla barba il politico che rinnovò la DC abruzzese. Poi l'esperimento dell'interposto di manopello termonucleare deciderà il Tar. La regione prepara il ricorso contro la bocciatura decisa da Enea. Poi pagina 13, come vi abbiamo detto in apertura di trasmissione. L'Abruzzo accoglie Mattarella, Taranta e Casoli. Benvenuto Presidente. I due sindaci salutano il capo dello Stato che oggi omaggia la brigata Maiella. Prima di ripartire pranza a Palombaro, il primo cittadino Massimo Tiberini. Ricorda la visita di Ciampi, Tiberini sindaco di Casoli. Il Casoli è il paese dei due presidenti. Orgoglio, soddisfazione e superlavoro per il sindaco di Taranta, Perigna. Marcello Di Martino. E qui altre foto che ci fanno capire quella che è la grande attesa con il tricolore che la fa da padrone. A tal proposito andiamo a vedere il servizio, proprio sulla grande attesa che in particolare c'è nel comune di Casoli per la visita odierna del capo dello Stato. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha appena fatto sapere al sindaco Massimo Tiberini che non potrà essere presente, ma Casoli è concentrata sul presidente della Repubblica. Sergio Mattarella sarà in visita al paese in cui venne fondata la brigata Maiella il 5 dicembre 1943. Aiuole fiorite, balconi addobbati col tricolore che sventola anche sulla Torre del Castello dove il presidente sarà in visita privata, come pure a Palazzo Tilli, recentemente ristrutturato. Ho lanciato un appello ai casolani e loro hanno risposto con entusiasmo, commenta il sindaco alle prese con gli ultimi sopralluoghi del cerimoniale. Mai come in questa occasione si sente un sentimento di condivisione, ha detto. Si sente l'affetto dei cittadini. Il paese è in fibrillazione, è un continuo di forze dell'ordine, di polizia, di finanza, di corazzieri, di cerimonieri, di tutto di più per far sì che il paese sia tutelato in modo più assoluto per la presenza del presidente. Il presidente verrà accolto triunfalmente, già si vede il paese in festa. Alla cerimonia nel teatro di Casoli, dove Mattarella arriverà dopo aver reso omaggio al sacrario di Taranta Peligna, saranno presenti il vicepresidente del CSM, Giovanni Legnini, la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, numerosi sindaci della provincia di Chieti, dal capologo teatino a Vasto e al Sangroaventino, vedove e figli di partigiani. La presenza del presidente Mattarella ha anche un significato attuale, recita un passo del discorso del sindaco Tiberini. La sua visita in un piccolo comune come Casoli è una testimonianza notevole, che attenua la sensazione di solitudine sociale che troppo spesso caratterizza i piccoli centri. A fare da cornice alla festa ci saranno tanti alunni delle scuole di Casoli, Tornareccio, ma anche da Teramo e dal Molise. Siamo alle pagine della cronaca di Pescara, sempre sul centro Blitz dei Nassi, in tutto l'Abruzzo, sequestrati 380 kg di pesce, ristoranti etnici nel Mirino, alimenti non a norma in un locale giapponese, in un altro medio orientale. Poi le parole del Maggiore Domenico Candelli, continueremo a vigilare i controlli sistematici, hanno già contribuito a far alzare la guardia di consumatori e ristorante, dice il comandante dei carabinieri del Nassi, Candelli. Poi ancora i progetti per la città, Viale Pindaro, la sede Rai al posto dei pompieri, spunto a una proposta per trasferire la caserma dei vigili del fuoco in via Pantini, coro di no in commissione e in contrasto con il piano per Porta Nuova. Avanti ancora 30 vigili per l'estate, 20 assunzioni a fine anno, opereranno dal 15 giugno al 15 ottobre, da dicembre fino al 6 gennaio 2019, Riviera Nord, intervento a tempi di record, il cantiere si sposta fino a Viale Muzzi, qui vediamo alcuni scatti dei lavori di rifacimento del manto stradale qui sulla Riviera Nord e poi da quest'altra parte un tratto rimesso a nuovo sulla Riviera Sud di Pescara. Pagina 20, torniamo alla cronaca, alunni maltrattati, l'inchiesta è chiusa, maestra sotto accusa, umiliazioni e insulti ai bambini in una quinta elementare, nei guai una docente dell'Istituto Piano T di Santa Filomena. E poi ancora i ponti di primavera, DJ Set e bancarelle in città si comincia da oggi e poi da sabato sotto costa al Porto Turistico torna il Salone della Nautica. Ancora un omaggio alla festa della Liberazione, alla festa del 25 aprile, con questa pagina del Centro. Palombo, l'abruzzese che entrò nella storia della Resistenza, braccio destro del generale Cadorna, ebbe l'onore nel 1945 di sfilare a Milano con i principali artefici della Liberazione, nell'articolo scritto dal sindacalista Geremia Mancini. Avanti, siamo alle pagine di Montesilvano. L'assessore è revocato col Whatsapp. Maragno non rappresenta gli ideali del centro-destra. Intervista a Manola Musa, ex delegata all'urbanistica e alle politiche sociali. Le scelte del sindaco su PP1 e immigrazione non potevano essere condivise. Poi c'è l'intervento anche del consigliere Orsini, il sindaco ora revochi l'assessorato anche a Cilli. Ancora Montesilvano, bandiera verde, premiati i lavori degli studenti da otto scuole poesie, foto e disegni dedicati alla città a misura di bambino. I lavori saranno esposti anche nella giornata di oggi al Paladin Martin. Poi a Città Sant'Angelo, nuovo polo commerciale. C'è pure il ristorante in corso, i lavori in via maestrale per la costruzione di due nuovi punti vendita. Siamo a Francavilla, meeting degli animatori con l'Arcivescovo Forte. Fine settimana dedicato alla formazione dei giovani dai 13 anni in su. Gli incontri sono aperti ai ragazzi che condurranno le iniziative estive delle diocesi. Andiamo avanti, siamo nella zona Vestina, nella pagina della zona Vestina. Oggi per il primo maggio c'è questa iniziativa. Ricopiano sentinelle contro i curiosi dopo il turismo, tra virgolette, turismo di Pasquetta. Il sindaco chiede aiuto alla protezione civile. Da oggi l'area sarà sorvegliata da vigili e volontari. Pagine di Chieti. Il Tar revoca l'appalto per l'ospedale ed è scontro giudiziario. Ha annullato l'affidamento per 3 milioni di lavori alla ditta Nocivelli. La sentenza, la Commissione, ha fatto gravi errori. E poi in basso la ASL cerca 30 disabili per lavori in ufficio, pubblicati bandi per impiegati centralinisti e magazzinieri. Domande ai centri per l'impiego entro il 30. In basso Chieti Solidale, stato di agitazione che scatta senza stipendio gli oltre 200 dipendenti dell'azienda pubblica che si occupa dei servizi sociali. Poi sempre la cronaca paura. Ad Atessa gli fratturano il braccio durante la rapina. Raide dei tre banditi nell'agenzia di pratiche auto caporale. Il ferito preso a calci è stato un inferno. Il sindaco mai tanta violenza qui. Poi ancora a San Vito Chietino, chiuso night abusivo. 11 ragazze in nero, scoperto un locale fantasma, non era iscritto alla Camera di Commercio, non aveva la licenza. Le pagine di Teramo, la politica in evidenza, referendum Cavallari d'Alberto per evitare al PD di frantumarsi. I 700 iscritti del partito saranno chiamati a scegliere il candidato sindaco. Sabato dalle 8 alle 21 si voterà nella sede di Corso De Michetti. Mariani, chi non rispetterà il risultato, sarà messo fuori. Sul fronte centro-destra, schiarita per l'accordo su Morra, la Lega apre uno spiraglio sull'indicazione data dai possibili alleati. Poi in basso i due sfidanti in disaccordo sull'effetto dell'iniziativa. Da una parte d'Alberto dice giusto che decidono i Terramani, ma il risultato non sarà vincolante. Il nostro progetto in campo dal 20 marzo, la replica di Cavallari, se la consultazione non cambierà nulla, allora è inutile farla. E così non si favorisce la partecipazione di chi dovrà votare. Poi per la cronaca a Montorio, fatti esplodere i massi pericolanti, ditta e incaricata dalla provincia, sgretola con la dinamite oltre 600 metri cubi di roccia. Qui vediamo alcuni dei momenti dell'esplosione con i massi che invadono la carreggiata della provinciale 42. Proseguiamo, siamo sulla costa, le scuole di Pineto, settimana corta, sì dal 70% delle famiglie. Sondaggio del dirigente scolastico Gaidano Avoglio, che però precisa la decisione spetta al Consiglio d'Istituto. E andiamo a chiudere con le due pagine aquilane. La ricostruzione, abitazioni vuote ma si pagano Tari e Imu, la protesta in un complesso di palazzi ricostruiti in via 20 Settembre. Da un anno e mezzo aspettano anche l'accatastamento. La parola all'assessore Di Stefano, anche se c'è una sola utenza, purtroppo bisogna versare i tributi, ma sto facendo delle verifiche con gli uffici di settore, dice l'assessore. Poi Ezzi, ancora introvabile, nonostante l'uso del drone, i vigili del fuoco e la protezione civile hanno perlustrato l'intera zona di Roio. Mistero su due avvistamenti in città, si cerca anche a Santeria e Pianola. Noi ci fermiamo con la prima parte di mattino 6, andiamo in pubblicità, prima le previsioni del tempo, dopodiché ci ritroviamo con la seconda parte. Ancora buongiorno, seconda parte di mattino 6, di nuovo buona festa della liberazione, che vedrà l'Abruzzo accogliere, come già ricordato, il capo dello Stato. Anche sulla pagina del messaggero Abruzzo che vediamo si torna appunto su questo argomento con il Presidente della Repubblica, Mattarella, che sarà in provincia di Chieti. E infatti Mattarella onora gli eroi abruzzesi, la significativa visita a Taranta e Casoli, 17 anni dopo Ciampi. A Bosco Martese la prima battaglia in campo aperto della Resistenza. Per la seconda volta un capo dello Stato raggiungerà la chiesetta che ricorda la brigata Maiella. E poi l'altro anniversario, Fonse, a 73 anni di distanza, manca un mito identitario. Il Presidente dello Iastric, Italia scossa da spinte divisive e lacerazioni della comunità. E poi in basso, lungo l'itinerario presidenziale, ecco quella è Casa Troilo. L'ex sindaco Filippo Travaglini aveva 13 anni e li vedevo quei giovani partigiani davanti al portone. Andiamo ora sulla pagina di Pescara. Sushi da incubo, chiusi ristoranti etnici, blitz del NAS, dei carabinieri nei pubblici esercizi cinesi e giapponesi. 16 reattività sanzionate in tutto l'Abruzzo. Nei locali sporco, incrostazioni, tracce di unto e il pesce mal conservato. In scatoloni senza indicazioni di provenienza. I militari di Pescara hanno trovato situazioni tali da far drizzare i capelli su cibi pronti a essere serviti. Vediamo il servizio realizzato dal Tg6. Due imprese alimentari sottoposte a provvedimento di sospensione dell'attività. 380 kg di alimenti sequestrati, 12 persone segnalate all'autorità sanitaria, amministrativa e violazioni amministrative per 18.000 euro. E il bilancio dei controlli che i carabinieri del NAS hanno eseguito nel settore della ristorazione etnica di tutto l'Abruzzo. 16 nel complesso le attività ispezionate, i controlli dei militari del NAS di Pescara, gli ordini del Maggiore Domenico Candelli hanno riguardato la commercializzazione di prodotti alimentari in attività gestite da cittadini extracomunitari. Sono controlli che facciamo con frequenza proprio perché si rivolgono all'utenza sempre più in crescita. I controlli anche in questa ultima campagna di attività ispettive hanno riguardato 4 punti cardinali. Innanzitutto il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e dei luoghi dove vengono preparati gli alimenti, che è un po' il nostro ABC. Poi il modo di sanificazione e preparazione di alimenti ittrici, crudi o praticamente crudi, che è un aspetto particolarmente delicato. Poi ovviamente tutte le procedure di rintracciabilità degli alimenti e delle materie prime utilizzate e poi, insomma un aspetto non meno importante, le informazioni obbligatorie che devono essere fornite al consumatore come appunto gli allergeni. Abbiamo ripassato a setaccio anche attività che avevamo già controllato e che avevamo trovato in carenze o in gravi carenze, insomma che avevamo anche comportato i provvedimenti sospensivi. Il dato positivo che si può trarre a margine di questa serie di controlli, anche di questi sequestri e provvedimenti anche sanzionatori, è che molte di quelle attività che erano in difetto nelle precedenti attività ispettive, in queste occasioni si sono ritrovati in condizioni sicuramente migliorate o comunque con lievi carenze. E questo insomma ci incoraggia anche a dare un senso alla nostra attività quotidiana, ispettiva, perché produce anche una forma di miglioramento anche dello standard. Nonostante tutto però ecco un paio di provvedimenti sospensivi, uno in un ristorante della provincia dell'Aquila e uno in un ristorante della provincia di Richieti, sono scattati per gravi carenze igienico-sanitarie. E sullo stesso argomento parla Nestor, lo chef Giramondo, pulizia e qualità prima di tutto e occhio al prezzo, non fidatevi di pasti completi a 10 euro, i prodotti di livello vanno pagati. E poi ancora in basso, quelli della tradizione, solo il meglio, non temiamo rivali dalla zattera alla paranza alle luna rossa, da noi c'è la vera cucina di mare. E poi proseguiamo sempre a Pescara dai DJ ai fornai, chi lavora quando Pescara va a nanna, preparano pane e cornetti, puliscono strade, inseguono ladri, badano al nostro svago, noi sempre in console mentre gli altri ballano le voci degli operai della Movida. Poi ancora, sempre a Pescara, al Marina, lo spettacolo della Nautica archiviata con successo Florviva. La Camera di Commercio lancia sotto costa la mostra da sabato al porto turistico, un appuntamento imperdibile per gli amanti del diporto con gli aperitivi Waterfront. Si punta al record di presenze coinvolte le scuole di Ortona e Pescara, confermato anche il premio di design dedicato quest'anno ai natanti di servizio. E poi, in taglio medio, Troilo si ferì da solo, il jeep severo sul killer di Jennifer l'ha messa in scena dell'aggressione reciproca elemento decisivo per la condanna a 30 anni. Pagine dell'Aquila, 700 aggregati fantasma, lavori fermi per 2 miliardi, si tratta di consorsi mai costituiti per la non curanza dei proprietari. Cambi in vista nella governance, De Paulis potrebbe sostituire Esposito e si apre un buco nero nella ricostruzione. Il Comune pensa ai commisteriamenti, a rischio soprattutto ci sono le frazioni. Sempre all'Aquila, Porta Barete, la sovrintendenza accelera, scattano le notifiche bis per le immissioni in possesso necessarie per concludere i lavori sulla cinta muraria. Il Comune è pronto a procedere a breve con gli espropri nei confronti dei condomini del 207 che si sono accordati. Poi ancora ad Avezzano salta il Consiglio un rinvio strategico. In quattro della maggioranza annunciano l'astenzione e non si presentano. Il dottor Aratari ci hanno chiesto di aspettare, aspetteremo insieme. Anche la minoranza non si presenta in aula solo in nove. De Angelis decide di aggiornare i lavori a sabato prossimo. Attesa convulsa ma poi prevale il buonsenso e la pace. Subito la conta. Avanti con le pagine di Chieti. Giunta via libera al bilancio con tagli per 4 milioni. Asili nido e trasporto scolastico ai privati in vendita una delle farmacie comunali. Niente stipendi a Chieti solidale. Scatta lo stato di agitazione. Appello al prefetto. L'esecutivo di primio ha approvato il previsionale. Colpi di scure su tutti i settori. In basso si impicca in carcere. C'è l'inchiesta per omicidio colposo. Fascicolo contro ignoti. Si tratta di un atto dovuto per disporre l'autopsia. E poi siamo nel Chietino. Io massacrato dai rapinatori. Augusto Caporale, titolare di un'agenzia per pratiche auto, racconta l'assalto dei banditi. Pestato con un tirapugni. L'uomo ricoverato con il volto tumefatto. Le costole rotte. Un incubo. Ho consegnato loro i soldi. Ne chiedevano altri. Infine le pagine di Teramo. Lavoro cercansi under 30. Sindacati assumono magari. Per Union Camere sono quasi 1,4 milioni i rapporti da avviare tra aprile e giugno. Anche a Teramo è boom di richieste. Molto scettica la CISL. I conti non tornano. E poi le parole di Fabio Benintendi, sempre della CISL. Tutti i contratti vanno migliorati, ma farebbe piacere che i giovani trovassero occupazione. Poi in basso Cavallari o d'Alberto Sabato il voto degli iscritti. A Giulianova, cara Ester, le toccanti lettere degli alunni. Ieri il premio letterario intitolato all'oncologa Ester Pasqualoni, uccisa un anno fa nel parcheggio dell'ospedale di Santo Mero, in gara gli studenti delle scuole medie di provincia e regione. Molta la commozione alla lettura della missiva degli infermieri. Una paziente ha chiesto di intitolare alla dottoressa il nosocomio Val Vibrata. Questo è uno scatto dell'evento che si è tenuto ieri al Cursal di Giulianova. Sempre Giulianova, stalker dal cuore matto. Ireni in tilt, illegale al jeep. Deve uscire dal carcere. Il coltivatore settantenne in cella per porto abusivo d'armi e per aver perseguitato una quarantasettenne straniera. Andiamo ora sulla città. Siamo a pagina 5. Si parla di questa vicenda sul fronte a ricostruzioni. Il direttore dell'USRE, l'ufficio speciale per la ricostruzione, verso la dirigenza a Lanciano. L'ingegner D'Alberto accetta l'incarico all'urbanistica e riaccende i rumors su un imminente addio a Teramo. C'è tempo fino al 31 luglio 2018 per presentare progetti di ricostruzione delle case inagibili a causa del terremoto. Eccolo qui, Marcello D'Alberto, accanto al presidente della regione D'Alfonso. Poi pagina 6. La politica. Chi non rispetta le consultarie è fuori dal PD. Mariani fissa le regole per la candidatura degli iscritti. Vietato schierarsi con il perdente tra D'Alberto e Cavallari e andiamo a vedere il servizio del TG6. Penso che proprio questa è la ricetta vincente. Cioè mettere in campo la generosità, cercare di prestare un aiuto il più possibile affinché si possa fare la sintesi, si possa allargare la base. A scegliere tra Cavallari e D'Alberto saranno gli iscritti al Partito Democratico. Così il PD ha deciso di uscire dall'angolo annunciando la scelta strategica alla ricerca dell'unità del centro-sinistra, un'equazione praticamente impossibile per le prossime comunali di Teramo. I tentativi di mediazione sono andati avanti fino all'ultimo. E fino all'ultimo il partito ha atteso un segnale da parte di Cavallari che riaprisse, sebbene in extremis, l'ipotesi delle primarie. Ma dal candidato sindaco di Bella Teramo non c'è stato il cenno voluto. E così i democratici hanno deciso di rinviare la scelta su chi sostenere ad un referendum tra gli iscritti. Sono circa 400 i tesserati del Partito Democratico e la consultazione dovrebbe essere organizzata in tempi molto rapidi entro domenica. Quello che si vuole evitare è un'ulteriore spaccatura all'interno del centro-sinistra già segnato dalle divisioni. Speravo che ci fosse buonsenso anche se il tempo non è scaduto da parte anche degli altri. Diciamo che qualcuno l'ha messo in campo prima, qualcun altro dopo e si è arrivati al fatto che praticamente tutti e due sono all'angolo come dei pugili che hanno voglia di combattere ma che di fatto sono dei pugili soli. Quindi di conseguenza va necessariamente trovata la sintesi e il fatto di fare delle primarie che sono poi mini consultazioni all'interno dei tesserati speriamo che possa far riflettere diciamo l'altro pezzo. Vediamo ora sul fronte centro-destra. Lega pronta a cedere alla logica di coalizione. Potrebbe appoggiare Morra dopo il via libera su Silvi. I riflettori ora si spostano sul blocco civico. Poi ancora leggiamo a pagina 8. Si è spento l'onorevole Tommaso Sorgi, professore di sociologia. Quattro legislatori in Parlamento. Il 96enne è stato un ideologo dei Focolarini. Camera ardente nella casa di via Capuani. I funerali si terranno domani pomeriggio al Duomo alle ore 14.30. Poi ancora parcheggi varato l'ultimo atto prima del bando. Il comune gioca d'anticipo sul sit-in della Tercop previsto per domani davanti a Municipio e Prefettura. Poi ancora andiamo avanti con le notizie dalla provincia. Siamo a pagina 13. esplosi i massi che incombevano sulla strada. Un'esplosione ieri mattina ha sgretolato le rocce che paralizzavano la strada nel territorio di Montorio. I lavori per la sistemazione della provincia alle 42 e delle paratie sono stati finanziati per 200 mila euro dalla regione Abruzzo e altri 150 mila dalla provincia. Poi ancora andiamo avanti con altre notizie dalla provincia. Siamo a pagina 15. Il mondo dell'arte piange la pittrice Naif. Annunziata Scipione si è spenta all'età di 90 anni nella sua abitazione di Azzinano di Tossicia. Si dedica all'arte dopo aver frequentato la terza elementare tra le massime esponenti dell'arte Naif. Poi la cronaca dalla Val Vibrata ad Alba. Adriatica, anziano raggirato, sette a rischio processo. Chiesto e rinvia giudizio per la famiglia Spinelli e per tre presunti complici. Poi a Mosciano i testimoni negano spaccio e usura. Imprenditori e artigiani ascoltati ieri nel processo su droga e rapine. Giuseppe Cacciapuoti a processo assieme a due rom di Mosciano, Piero Guarnieri e Ghianina Stefan. Poi ancora a Roseto via libera la balneazione del Borsacchio. Apertura della direzione marittima dopo il divieto dello scorso anno. Niente divieto di balneazione ma cartelli che avvisano dell'assenza del servizio di salvataggio. E poi sempre a Roseto 300 mila euro per il ponte sul Tordino. Trovati i fondi dopo la minaccia di Tacchetti di chiudere il passaggio. La decisione è arrivata durante l'incontro di ieri mattina con gli assessori regionali Pepe e D'Ignazio. Andiamo a vedere anche la pagina dello Sport che dunque introduciamo in questo modo. Ecco qui pagina 24. Teramo esodo a Fano per la gara dell'anno. Speranza per noi è come una finale, non dobbiamo sbagliare approccio. Rossi fuori rosa sarà addio per l'ex giocatore del Pescara. Paladini rievrà speranza in difesa ma il dubbio del modulo possibile si affida al 3-4-1-2 con l'inserimento del trequartista. Forse Tuglia alle spalle di due punte, Gondò e Bacio Terracino. E poi tempo fino a sabato per i biglietti. Non è richiesta la tessera del tifoso. Capienza per oltre 800 posti. Rapidissimo sguardo alle testate nazionali, alle prime pagine, visto che abbiamo introdotto il momento dello Sport. Ecco la gazzetta Roma-KO conto salato. Gioco di parole. Ora un altro miracolo. Semifinale d'andata. Il Grandex fa una doppietta e piazza altrettanti assist. Trascinando il Liverpool, Geco e Perotti evitano la disfatta. Poi una serie di richiami. Napoli, gli stessi orari della Juve dalla 37esima giornata richiesta alla Lega. Inter e Rafinha l'uomo in più ma può restare. Milan, Giuntoli o idea Sabatini se Mirabelli va via. E poi Dumoulin su di giro. Voglio la rosa di Gerusalemme. Il Corriere della Sera, perdono, il Corriere dello Sport. Dai Roma si può fare sotto per 5-0. I giallorossi si rialzano con Geco e Perotti. Ora serve una nuova impresa di Francesco. Noi ci crediamo. E poi sì, Ancelotti vuole l'Italia. Fabricini è l'incontro segreto a Roma. L'idea gli piace, si decide a fine mese. Poi tutto sport, parla il presidente del Toro Urbano Cairo. Cambio il Toro. E poi Juve, Mou, Libera, Martial. E poi sotto la testata, dai Roma, non mollare. Torniamo ai quotidiani locali. Siamo sul centro. Ecco la pagina dello Sport che è aperta dall'intervista al centravanti del Pescara. Stefano Pettinari, ex attaccante della Ternana. Ternana prossima avversaria dei Biancazzurri. Pettinari carica il Pescara. Terni per vincere, non firmo per il pareggio. Il centravanti l'anno scorso in Umbria sono rinato. Ma i tre punti ci servono. Falco non recupera. Bovo sarà pronto per la sfida casalinca contro il Cesena. Nella seconda parte della scorsa stagione l'attaccante ha vestito la maglia degli Umbri, ottenendo una salvezza incredibile. E poi in basso Decagno ha rilanciato gli Umbri. Dieci punti nelle ultime quattro partite. Il tecnico sfiorò la Serie A con il Delfino nel 98-99. Vediamo anche il messaggero. Anche in questo caso in primo piano c'è il centravanti Stefano Pettinari. I gol di Pettinari per la salvezza. Il bomber del Pescara è a quota 13. La vittoria sullo Spezzi è stata una liberazione. Ed ora c'è la sua ex Ternana. Mi rivolevano ma con il Delfino mi sono trovato in sintonia. Poi le parole di un ex come Michele Gelsi, Pillon, ha saputo rimotivare il gruppo. Andiamo ad ascoltare l'intervista rilasciata al nostro Paolo Renzetti proprio da Stefano Pettinari. Stefano, dopo la vittoria con lo Spezia, una partita delicatissima. Sabato a Liberati di Terni incontrerete una squadra carica dopo il successo nel derby con il Perugia. Sì, assolutamente. La Ternana forse è una delle squadre più in forma del campionato. Dovremmo andare lì a fare una grande battaglia perché è appunto uno scontro diretto e non possiamo sbagliare. Una squadra che ha raccolto tanti punti dopo l'avvento sulla panchina rosso-verde di Gigi De Canio. Sì, anche lì appena hanno cambiato il mister non sono cambiate subito le cose. Ci hanno messo un po' di tempo a carburare ma nelle ultime stanno facendo veramente grandi cose. Poi hanno appena vinto il derby che è molto sentito da quelle parti. Tra l'altro rimonta quindi vuol dire che è una squadra in salute e sarà veramente dura. Con l'avvento di Pilon sulla panchina del Pescara si sta rivedendo il miglior pettinari. Perché ti chiedo? Io l'ho già detto altre volte. Il mister ci ha dato una scossa, ha toccato i punti giusti. Sin dalla prima partita col Palermo siamo andati lì a fare una grande prestazione. Poi anche con il Bari abbiamo fatto bene. E poi finalmente è arrivata questa vittoria. Quindi sicuramente sono cambiate le cose per la squadra e di conseguenza anche per me. Con il Bari e con lo Spezia all'Adriatico si è vissuto un clima diverso rispetto alle precedenti partite. Un grande pubblico, una grande curva nord che ha spinto la squadra dal primo al novantesimo. Importanti anche gli applausi del novantunesimo della gara con lo Spezia. Cosa è cambiato anche da questo punto di vista? Sicuramente hanno visto un atteggiamento da parte della squadra molto più propositivo. Penso che sono sotto gli occhi di tutti. Poi non è un caso che siano arrivati anche due risultati molto positivi. Quindi siamo stati bravi noi a trascinare il pubblico e anche loro a sostenerci per tutta la partita. Ternana Pescara significa anche il ritorno di Stefano Pettinari a Liberati. Lo scorso anno nella penultima gara di campionato con una tua doppiesta arrivò la salvezza della Ternana. Dunque bei ricordi per te. Sì, assolutamente. È stata una salvezza con una rincorsa incredibile perché nelle ultime 11 partite abbiamo fatto 27 punti. Poi abbiamo incontrato nella penultima la Spal prima in classifica. Siamo andati anche sotto, poi ho fatto due gol e siamo andati poi a vincere l'ultima partita ad Ascoli. Quindi bei ricordi e una salvezza raggiunta all'ultimo. Andiamo a chiudere con gli ultimi titoli che leggiamo sul messaggero Abruzzo. Siegue Donofrio, parliamo di volle in questo caso. Legame destinato a durare a luglio andrà, scadrà anche il mandato di Lega. Non mi vedo senza pallavolo ma non sono attaccato alla poltrona. E poi per la Serie C Teramo a Fano conta solo vincere. Capitan Speranza al rientro dopo il turno di squalifica si è chiusa l'esperienza in bianco-rosso del difensore Rossi. Per il basket Bianchini e Gramenzi. Roseto occhio alla nobile Decaduta. I due grandi coach mettono sull'avviso l'entourage degli Sharks. Di Spalla, Serie D, L'Aquila, Slitta, Il Vertice per l'acquisto societario. L'iniziativa parte dall'amministrazione comunale e abruzzese. E poi per il campionato di eccellenza. Oggi si definiscono le griglie play-off e play-out senza appelli. Chiudiamo qui mattino 6 in questa edizione del 25 aprile. Vi rinnovo gli auguri per una buona festa della liberazione. Noi chiaramente seguiremo la visita del capo dello Stato in provincia di Chieti, a Tarantapeligna e a Casoli. Dunque vi rimando tra le altre cose alle tre edizioni del TG6, quelle delle ore 14, 19 e 23. Io ringrazio in regia Maurizio D'Agui e ringrazio voi per la cortese. Attenzione, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.